Nell'ambito delle iniziative socioculturali legate al premio letterario Il Sogna Libero per le carceri italiane, nella mattinata di lunedì 8 aprile si è tenuto un incontro a favore dei detenuti della casa circondariale di Ravenna con lo scrittore Marcello Simoni, autore di romanzi storici, giunto alla pubblicazione del suo quattordicesimo libro. L'evento è stato promosso da Biper Banca e da Giordano Bruno Ventaboli, responsabile di Tutto Libri della Stampa. Il progetto è stato avviato dal Comune di Modena con la direzione generale del Ministro della Giustizia ed è nato con la finalità sociale di coinvolgere i detenuti nella lettura e nella scrittura. Nella sala del refettorio del carcere la direttrice della casa circondariale, dottoressa Carmela De Lorenzo, ha aperto l'incontro accogliendo 23 ragazzi di una classe terza del liceo linguistico Dante Leghieri di Ravenna che insieme agli educatori hanno aiutato i detenuti nella lettura del libro e nella formulazione delle domande da rivolgere all'autore all'interno dell'alternanza scuola-lavoro. L'inquisitore Girolamo Svampa è il protagonista del suo romanzo giallo, La prigione della monaca senza volto, ambientato nella Milano del 1600 all'inizio del secolo. Per quale motivo lo Svampa si reca a Milano? Per indagare sulla scomparsa di una giovane monaca di clausura. Qual è il monastero in cui avviene la scomparsa? È il monastero in cui si trova reclusa Mariana De Leiva, alias la monaca di Monza, che è una delle donne che sembra aver sentito, saputo qualcosa di questo delitto. Chi dovrà inseguire lo Svampa? Una sorta di serial killer che sembra pietrificare le sue vittime. Entrano in gioco l'alchimia, le politiche, gli intrighi di una Roma vaticana che cerca di mettere le mani sulla Milano, che invece è sotto il dominio spagnolo. L'inquisitore cerca anche degli alleati. Chiederà aiuto al segretario della congregazione dell'Indice, Francesco Capiferro. E anche una cantante lirica, una famosa Margherita Basile, una sorta di Milady de Winters, una donna che dovrà travestirsi da monaca per cercare di carpire informazioni negli ambienti in cui lo Svampa sta indagando. Ci sono personaggi reali del Seicento, presenti nei Promessi Sposi, ma lei li approfondisce con una verità storica ulteriore? Sì, i personaggi che si incontrano in questo romanzo sono in realtà due personaggi enormi del 1600. Il primo è il cardinal Federico Borromeo, quello che in Manzoni descrive quasi come un santo. In realtà Borromeo era un cardinale che si trova a dover governare spiritualmente su una Milano ecclesiastica che è fedele al re di Spagna e che non obbedisce a quelle che sono le gerarchie ecclesiastiche. Borromeo è un uomo politico, è un uomo oltretutto ossessionato dal diavolo perché scrive addirittura un trattato sulle manifestazioni demoniache. È un uomo che diventerà anche un persecutore di untori, perciò comunque è un uomo che insegue anche le streghe e che non è circondato da quell'alone di mansuetudine, di venerabilità che in realtà siamo abituati a cogliere quando scorgiamo i suoi ritratti. L'altro enorme personaggio, monaca di Monza, il suo vero nome era Marianna Deleiva, quando prende velo cambia il nome e diventerà Suor Virginia Maria Deleiva. È una donna monacata a forza, una donna che era abituata a comandare, proviene da una famiglia nobile. Marianna a un certo punto nel 1607 viene arrestata perché è sospettata di avere una relazione amorosa con un nobile locale, certo Gianpaolo Osio, una relazione che portò a delle vittime perché Gianpaolo Osio per tenere nascosto questo rapporto amoroso uccide delle consorelle della monaca di Monza e uccide addirittura un uomo con un colpo d'archibugio. Marianna Deleiva viene arrestata e viene murata viva per 14 anni in uno dei peggiori conventi di Milano. Sogna Libero è un concorso letterario che è nato lo scorso anno, si è già conclusa la prima edizione, dove abbiamo indicato dei libri da leggere che i detenuti hanno letti e poi come se fosse un vero e proprio premio strega i detenuti si sono trasformati in giurati e hanno deciso qual era il romanzo vengitore. Per la cronaca è stato l'Arminuta di Donatella di Pietrantonio. L'altra fase del concorso Il Sogna Libero prevedeva invece la scrittura. I detenuti hanno scritto, si sono espressi nella forma letteraria che preferivano, cioè novella, poesia, romanzo o memoir. E questi scritti sono stati poi raccolti in un e-book della casa editrice Il Dondolo del Comune di Modena.